Siamo qua davanti alla cassa di espansione di Ibando, fortunatamente possiamo annunciare che l'emergenza è sostanzialmente rientrata, tutti i nostri impianti continuano a funzionare, effettivamente abbiamo avuto uno sforzo straordinario dovuto ad un evento meteorologico assolutamente imprevedibile per quanto riguarda la propria portata e storico per i numeri evidentemente che abbiamo oggi cumulato come piovosità e come acqua che abbiamo trasportato fuori dal sistema. Fortunatamente il territorio della provincia di Ferra è stato meno colpito, noi però dovremmo inevitabilmente fare la conta dei danni non solo per quanto riguarda le aziende agricole ma anche le strutture consortili, gli argini, le scarpate delle strade, insomma una situazione davvero molto preoccupante che inevitabilmente avrà delle ripercussioni anche nelle prossime settimane. Per quanto possibile noi stiamo già mettendo a disposizione il nostro personale a servizio delle attività dei consorsi colpiti dall'alluvione della Romagna per cui abbiamo già iniziato a inviare le prime pompe appena appunto terminata la fase emergenziale sul nostro territorio. Oltre 300 mm di pioggia caduti cumulati in poco più di 15 giorni, oltre 200 milioni di metri cubi di acqua trasportati fuori dal sistema, insomma davvero numeri straordinari che avranno anche dei costi energetici importantissimi. Oggi ovviamente noi abbiamo messo a disposizione il personale lavoro H24, pensiamo che nelle prossime 24 ore l'emergenza sarà definitivamente rientrata, comunque continueremo a monitorare insieme alle amministrazioni ovviamente i danni che sul territorio avrà lasciato questa straordinaria emergenza.